spallaccio sudafrica è uno spallaccio degli anni 80 70 80 in dotazione all'esercito sudafricano dell'epoca in effetti ha dei richiami alla buffetteria tipica anglosassone un robusto cotone ritorto ring anelli metallici posti sul davanti e sul vetro qui sopra abbiamo delle fibbie che servono per agganciare qualche materiale sicuramente vengono messe in questa maniera da notare particolare l'aggancio con questi moschettoni metallici doppi con regolazione anteriore abbiamo la fettuccia con regolazione anteriore che serve per regolarlo in altezza essendo taglia unica sul retro idem doppia fettuccia con agganci metallici per la regolazione sono in metallo verde verniciato eccezionalmente robusto